Signore e signori, buonasera, ci ritroviamo con la nostra lezione, con il nostro circolo di economia, nel quale discuteremo stasera alla luce di quanto sta accadendo. Siamo alla vigilia praticamente di un nuovo lockdown in Italia, la vicenda dei vaccini per così dire prosegue con diverse critiche nell'opinione pubblica per come l'Europa pare stia gestendo la vicenda. Insomma i vecchi e nuovi problemi si affacciano e sorge spontaneo la necessità di un discorso su una teoria anche economica per il futuro, cioè cercare di capire quale deve essere il nostro destino, quali ragionamenti dobbiamo fare sull'Italia, sull'Europa, sul Mediterraneo, sul Mediterraneo più vicino anche all'Italia e su quelle che devono essere le risposte ad un momento che sembra davvero epocale, un qualcosa che non avevamo mai affrontato prima, almeno per le nostre generazioni, per quelli che siamo nati a partire dagli anni 60-70, è che si sta rivelando un'incognita e qualcosa soprattutto nella quale emergono forse i limiti di una società che ha posto da tempo le idee in secondo piano. Nella nostra società sembra che non abbiamo più idee, sembra che non siamo incapaci di avere delle visioni del mondo, sembra che siamo incapaci di fare dei ragionamenti sul nostro futuro. Ci affidiamo probabilmente allo scorrere delle cose sperando che arrivi qualcuno a risolvere determinati problemi. Beh, temo che questa volta non arriverà nessuno, se non probabilmente noi stessi, se noi non riusciremo a cambiare determinate cose che davamo per assodate nella nostra società, se noi non riusciremo ad affrontare i problemi che stanno arrivando, se noi non riusciremo a costruire anche classi dirigenti per il futuro, se noi non ci riappropriamo a determinati aspetti culturali, beh, allora credo che verranno tempi veramente difficili, forse più difficili ancora di quelli che pensiamo. Il nostro circolo di economia stasera ha naturalmente i nostri, direi, gli altri due ospiti che abbiamo nelle nostre varie puntate, ovvero il dottor Giovanni Armando Zero e il dottor Benedetto Brandino, che naturalmente cercheranno di farci capire qual è il loro punto di vista sull'economia, sia su una storia della nostra economia, come siamo arrivati alla situazione attuale, e sia quali potrebbero essere le vie di uscita future, facendoci anche un po' di storia, credo, dell'economia, facendo luce anche naturalmente su aspetti del nostro passato che sono da tempo dimenticati. Ecco, l'assenza di memoria storica, l'assenza di cultura in tanti settori disciplinari, sembrano di essere le caratteristiche di quest'epoca. Bene, io direi di cominciare con Giovanni Armando Zero e poi passare a Benedetto, cercando di partire da alcuni personaggi che sono stati dei punti centrali del modello italiano, perché io credo che si debba parlare proprio di modello italiano, ovvero l'Italia ha avuto nel dopoguerra una visione particolare dell'economia, dello Stato, della politica, che forse è un unicum davvero in Europa. Forse che potremmo trovare nel nostro passato qualche risposta per il futuro. Grazie professore per averci nuovamente dato la possibilità di affrontare tematiche molto importanti con dei punti di vista probabilmente trascurati, se non proprio criminalizzati. Abbiamo un nuovo presidente del Consiglio, è un personaggio che ha un'esperienza unica al mondo, perché ha vissuto un'epoca molto travagliata nella nostra storia economica e probabilmente è molto ricco di onestà intellettuale. Cioè a un certo punto delle certezze granitiche vengono messe in dubbio e si è anche disposti ad ammettere i propri errori e a fare qualche passo indietro. Io sento nelle parole del presidente Draghi, in diverse occasioni, un richiamo a questa possibilità. Inutile raccontare un pochettino l'escorso storico del presidente Draghi. Tutti sappiamo con chi si è laureato, cioè con Federico Caffè, uno degli ultimi grandi estimatori di un interventismo di stampo keynesiano nella nostra cultura economica degli anni 70. Ha preso una strada che io ritengo fosse quasi obbligatoria. E qui ci ricolleghiamo a una cosa importante, e cioè che molto spesso le teorie economiche sono costrette a seguire il vento geopolitico e quindi realtà come quelle italiane hanno subito più di altre le imposizioni provenienti da situazioni geopolitiche dove l'Italia oggettivamente non aveva molto potere per poter influire e non subirle. Gli anni 80 noi mostreremo successivamente un grafico in cui si vede come è ritornato predominante il liberismo economico, cioè quella teoria che si potrebbe sintetizzare che tutto quello che fa lo Stato con il suo intervento è deleterio per l'optimum teorico. Qualsiasi intervento statalista è negativo. Il massimo di questo intervento statalista è l'interventismo di una banca centrale. Quando si è deciso di abbattere l'interventismo statale si è snaturalizzato e ridotto tantissimo il potere della banca centrale. La banca centrale europea è nata con questa impostazione e questo statuto. questo mancato interventismo da parte della banca centrale per l'Italia è stato enormemente deleterio. È stato enormemente deleterio. In ultimo noi abbiamo visto come lasciare ai mercati la libertà di decidere quanto dovesse pagare uno Stato sul proprio debito pubblico ha comportato una crisi enorme per il nostro Stato. Un innalzamento notevolissimo del proprio debito pubblico fino al rischio di insostenibilità. Questo picco si è toccato in Italia nel 2011 nel famoso attacco che l'Italia ha subito dopo la crisi libica con il governo Berlusconi e con l'arrivo di Monti. Dall'epoca, dall'ora in poi, per fortuna, questa cultura è venuta meno. Si è anche consentito alla banca centrale europea di intervenire massicciamente nella gestione degli andamenti dei tassi di interesse non scoprendo niente, lo facevano altre nazioni, era la nostra decisione, la decisione europea di non farlo. Noi adesso ci troviamo in una situazione che paradossalmente abbiamo una situazione economica con un debito molto più alto e abbiamo delle condizioni di finanziamento che siamo quasi al limite dei tassi di interesse negativi. Cioè coloro che prestano, avendo la sicurezza della restituzione, soldi allo Stato italiano, sono anche disposti ad accettare meno di quello che percepiscono. Beh, il presidente Draghi è stato quello che è in sede di Banca Centrale Europea ha intrapreso questa nuova cultura economica. Quindi gli va dato merito. Adesso negli ultimi giorni si sente parlare di una nuova politica industriale di stampo statalista si sta parlando di ristori vari, redditi di cittadinanza. Qual è il succo? Oltre alla situazione contingente dovuta alla pandemia i 30 anni di liberismo sfrenato hanno fatto in modo che una percentuale bassissima della popolazione mondiale abbia infinitamente aumentato la propria ricchezza in contrapposizione moltissima percentuale della popolazione mondiale è scesa a ridosso della soglia di povertà. La famosa classe media italiana è al limite della soglia di povertà le persone che non riescono più a far fronte alla sopravvivenza aumentano sempre di più e una situazione del genere è oggettivamente paradossale in un momento in cui anche la teoria economica finalmente sta ammettendo che tutto nel mondo è scarso tranne ipoteticamente la creazione monetaria. Come disse Draghi in sede di Banca Centrale Europea potenzialmente una banca centrale non può mai finire le proprie cartucce questa consapevolezza comporta un interventismo una disciplina dei tassi di interesse e finalmente si può mettere al centro dell'attenzione il lavoro e non la rendita quello che invece ha consentito negli ultimi 30 anni appunto di speculare sul debito pubblico. Mi sento di aggiungere io che questi 30 anni di liberismo alla fine hanno fatto sì anche in una situazione difficile come quella di oggi che l'Italia non abbia un vaccino prodotto in Italia e una volta eravamo all'avanguardia come industrie farmaceutiche una volta l'Italia era un esempio era tra i produttori più importanti di penicillina insomma potrei continuare come siamo arrivati poi a tutto questo ecco dobbiamo forse anche ringraziare determinate politiche di stampo liberistico e il fatto che tutti quanti si siano riempiti la bocca per anni di concetti tra virgolette di irreversibilità cioè che l'unico destino al quale eravamo chiamati era quello di magnifiche sorti progressive di un certo liberismo sfrenato che già aveva fatto fracelli e danni inconmensurabili in varie altre parti del mondo se ci ricordiamo l'America Latina che come dire dagli anni 70 è stato teatro di questi grandi esperimenti che hanno arricchito pochissimi è massacrato milioni di persone dal punto di vista economico, sociale e culturale Benedetto Brandino quale ragionamenti possiamo fare in una prospettiva anche storica? a me piacerebbe riprendere un po' quello che diceva il dottore Zero relativamente all'insegnamento del maestro di Draghi Federico Caffè perché Federico Caffè una figura forse poco studiata poco conosciuta anche perché di fatto anche la sua scomparsa è stata avvolta nel mistero questo professore che in un certo punto della sua vita dopo che finisce di insegnare all'Università di Roma un bel giorno scompare lascia gli occhiali lascia il portafogli sul comodino e di cui non si sa più nulla da circa 30 anni tant'è che poi nel 1998 è stato dichiarato morto Federico Caffè quello che di fatto ha fatto conoscere il cheesianesimo in la politica di Keynes la politica economica di Keynes in Italia lui è tra i primi economisti italiani che studia la London School of Economics però il suo cheesianesimo è basato appunto su quello che diceva anche il dottore Zero non su il profitto per il profitto ma lui introduce in Italia un concetto di umanesimo dell'economia per caffè non si deve lasciare indietro non si deve lasciare indietro nessuno cioè lo Stato da questo punto di vista deve essere fondamentale nell'assistere giustamente il dottore Zero parlava di reddito cittadinanza e anche quello che è poi il discorso che fa Draghi quando dice sì bisogna chiaramente far sì che le aziende decotte facciano la fine che facciano però dobbiamo salvaguardare il lavoro quindi chiaramente dobbiamo salvaguardare la persona perché è chiaro che non si deve lasciare nessuno indietro ed è questa quella che poi è la grande lezione di caffè un'economia umana in cui lo Stato doveva avere chiaramente doveva pensare alla distribuzione della ricchezza cosa che effettivamente ci siamo scordati in questi trent'anni e il professore Amato faceva riferimento ai vaccini noi in modo da andare a rincorrere il finanziario la finanza globale abbiamo praticamente fatto sì che distrutto settori importanti della nostra produttività abbiamo depauperato settori come la chimica noi abbiamo praticamente impoverito il settore che era il nostro fiore all'occhiello della produttività della nostra nazione negli anni 60, fino agli anni 50 Natta vince il premio Nobel per la chimica la chimica italiana ha il non plusulte in quel momento e invece praticamente con delle speculazioni di tipo economico la famosa Enimont abbiamo distrutto questo patrimonio che ci ha di fatto depauperato quindi fondamentalmente a questo punto sicuramente c'è ritornare a un controllo dello Stato in questo senso e Draghi ha questa parabola lui a un certo punto è quello che sul Britannia nel 92 decide le privatizzazioni ahimè pure lì una cosa deleteria per l'Italia e sicuramente il professore Zero ci potrà dire quali conseguenze hanno avuto queste privatizzazioni e invece adesso si ritorna a quello che è un intervento dello Stato in cui cerca di dare però una distribuzione di ricchezza su tutti cioè è questo fondamentalmente noi come diceva il professore Zero abbiamo una classe media che si è totalmente depauperata già prima del Covid c'era la famosa sindrome della terza settimana piuttosto che la quarta settimana quindi sicuramente c'era stato un imponimento da questo punto di vista che col Covid è continuato e adesso chiaramente la risposta è questo un intervento di uno Stato ma anche secondo me non soltanto di uno Stato in quanto tale ma di un'entità di Stati io ecco a questo punto di vista mi rifarei anche a un'altra teoria che porta avanti uno degli altri degli altri allievi di caffè Daniel Archibuggi quando parla appunto di democrazia cosmopolita quando praticamente dice gli Stati non possono riuscire a superare da solo certe risi ci vuole questa entità sovranazionale che da noi sicuramente potrebbe essere l'Unione Europea con tutto quello che ha fatto su questa problematica che ci è scoppiata però adesso si stanno ricominciando a ricredere cioè si sta cercando realmente di fare questa unità sovranazionale che possa riuscire a portare un'uscita dalla crisi certo le cose sono state gestite male ricordo i primi commenti del governatore Lagarde su quello che furono i primi problemi legati ai finanziamenti della Banca Europea quando c'è stata questa cosa la stessa cosa che anche sui vaccini ecco un'altra cosa che per esempio questa è fatto che sono stati anche fatti male questi negoziati cioè anche l'Unione Europea ha peccato da questo punto di vista però ecco la grande multitasking cioè la grande performance di Draghi lui è riuscito praticamente a bloccare non so già facendo la voce grossa al primo consiglio a cui ha partecipato e su questa storia perché praticamente oggi noi abbiamo fatto valere il regolamento dell'Unione Europea la prima è stato il primo Stato facendo appunto riferimento a questa entità sovranazionale che è l'Unione Europea quindi la normativa c'è esiste da questo punto di vista quando ha bloccato questi 250.000 dosi di vaccino che in teoria dovevano andare dovevano andare all'Australia quindi c'è questa importanza sicuramente su questa sovranazionalità che è quella che secondo me ci può far uscire dalla crisi e allora proprio partendo da questo ma siamo sicuri che la via giusta sia quella già percorsa ovvero giustamente si parla di sovranazionalità ma è il destino dell'Europa è sempre quello atlantico potrebbe esservi un destino euroasiatico potrebbe esservi la via della seta potrebbe esserci una via mediterranea e soprattutto in tutto questo la politica ci serve ancora sembra che tutti i migliori fermenti vengano comunque da tecnici cioè quindi da un mondo dell'economia tecnici dal punto di vista poi della geopolitica insomma da determinate categorie che poi vengono chiamate a livello scientifico pratico militare cioè persone che hanno determinate competenze a gestire le cose in tutto questo si vede una crisi irreversibile della politica che è sempre tre passi indietro cioè che non riesce a capire che parla per slogan che è ormai distaccata assolutamente dalla società e che sembra quasi un ospite che si debba invitare quasi per forza anche se ormai non ha più come dire nemmeno quello che dovrebbe essere fondamentale nella politica ovvero le idee cioè idee non ce ne sono tentano di riciclare sempre qualcosa che ma sono sempre per così dire da parecchio tempo e non parlo solo dell'Italia parlo di classi dirigenti europee dell'Europa occidentale in particolare sono sempre indietro e fuori tempo rispetto a quello che succede a differenza di comunque la si veda di quello che succede dall'altra sponda dell'oceano dove si può parlare di Trump di Biden ma comunque di persone che hanno le idee molto chiare opposte diversissime molto simili poi sugli interessi nazionali reali per esempio degli Stati Uniti dove non c'è tutta questa differenza abbiamo visto sui Dazi o su altre cose a Est se si guarda alla Russia naturalmente alla Cina ma anche se si guarda ormai a tutti gli altri continenti dove sembrano emergere comunque delle visioni politiche dove esistono dei ragionamenti dove esistono delle prospettive di interesse cioè di ragionamento su quello che è l'interesse nazionale o sovranazionale o regionale o chiamatelo come volete quindi partendo da questo quale dovrebbe essere e mi permetto un'ulteriore provocazione all'interno poi di un'Italia per l'ennesima volta divisa in zone gialle arancioni qual è poi ancora una volta il ruolo della questione meridionale sembra capisco assurdo parlarne del 2021 ma poi in questa situazione abbiamo anche poi una specificità particolare del meridione d'Italia dove i problemi non sono stati risolti sono stati semplicemente accantonati cioè si è detto che questi problemi non se ne parla più ma probabilmente questi problemi esistono ancora no assolutamente professore vanno invece intensificate le discussioni a riguardo io credo che ormai sia chiaro con vent'anni di ritardo a tutti che il mondo unipolare è arrivato al capolinia coloro che hanno dettato le regole del gioco in quanto vincitrici della seconda guerra mondiale anche grazie al nostro territorio perché in fin dei conti il ventremolle della fortezza europea era l'Italia il ventremolle dell'Italia era la Sicilia il ventremolle della Sicilia finisce che è la spiaggia qui di Siracusa è molto importante che invece la fortezza europea arrivi a capire cosa deve fare da grande e credo che la problematica della Nato e del chiudersi è un qualcosa che ormai i governanti europei hanno ben chiaro non è immediato ma è una è una condizione che si deve raggiungere nel più breve tempo possibile alla luce anche del ormai palese ritiro degli Stati Uniti come degli Stati Uniti come gendarmi del mondo non lo hanno fatto anche loro in maniera esplicita una dichiarazione ma i dati di fatto sono evidenti il mondo non è più centrato sull'Atlantico il mondo è centrato sul Pacifico è lì lo scenario e contemporaneamente con il Pacifico il venir meno dell'importanza dell'Atlantico torna ad essere molto importante il famoso Mediterraneo con il raddoppio del canale di Suez e il controllo del Mediterraneo beh io non voglio ricostruire in questa situazione in questa puntata dal mio punto di vista gli enormi errori che sono stati fatti dalla nostra nazione in ambito della gestione della Marina è stata trascurata per tanto tempo è per tanti diktat post prima guerra mondiale post seconda guerra mondiale è stato imposto comunque una limitazione non una libertà però anche i nostri governanti hanno voluto andare oltre le limitazioni imposte dalle altre potenze e paradossalmente oggi noi abbiamo non ricordo la cifra precisa però in rapporto tra aeronautica e marina una discriminazione della marina è un errore gravissimo l'Italia e ci torniamo al discorso della geopolitica e della teoria economica allora una teoria economica che sia perfetta per qualsiasi contesto geografico qualsiasi stato e in qualsiasi periodo storico è una grandissima presa in giro perché come insegna la geopolitica e come insegnano i grandi maestri autoctoni gli abiti vanno cuciti addosso sulle proprie caratteristiche noi quando lo abbiamo fatto abbiamo brevettato quello che abbiamo più volte ripetuto l'equilibrio la terza via l'intervento e ci sono venuti a studiare quando noi abbiamo vinto l'Oscar per la lira con il governatore Menichella nel 60 nel 65 il miracolo economico italiano cioè qualcuno qualche domanda se la doveva fare come eravamo riusciti ad ottenere quello in 20 anni dopo che ci avevano distrutto e uscivamo sconfitti dalla seconda guerra mondiale allora tutti quei sacrosanti insegnamenti sono stati smarriti anche a un certo punto criminalizzati proprio nulla era perfetto sicuramente prima del Britannia la degenerazione nella gestione della Repubblica aveva toccato apici però non è che abbiamo risolto i problemi dell'Italia con il famoso Tangentopoli dove probabilmente abbiamo buttato e qui rubo le parole al professor Galloni abbiamo buttato il bambino e ci siamo tenuti l'acqua sporca allora il mondo sta cambiando ci sono nuovi equilibri io personalmente non voglio essere accusato di europeismo ma io sono realista sono pragmatico io ritengo che l'Italia non abbia la forza per gettare il tavolo all'aria non è il periodo storico per gettare il tavolo all'aria più che altro si tratterebbe di passare da un padrone a un altro padrone e tenersi i nemici ai confini quindi non la vedo proprio una genialata in ambito di strategia però essere dei portatori di idee sani e di sani esempi a livello europeo secondo me è un dovere in questo periodo storico in più tornando al discorso delle teorie economiche è palese ed è chiarissimo che quando c'è una grossa unità economica con grosse differenziazioni l'approccio liberista amplifica queste diversità noi lo abbiamo vissuto col dualismo nord-sud in Italia è necessario a quel punto brevettare inventarsi infrastrutture immateriali giuridico economiche che intervengano e vadano a compensare appena ci sarebbe lo spopolamento della nostra realtà noi sono anni che ci teniamo l'acqua sporca senza nulla togliere però ci teniamo la manovalanza bassa e ne importiamo anche da fuori e esportiamo i cervelli come possiamo poi ottenere realmente una una spinta propulsiva se le migliori teste e i migliori cervelli sono costretti ad andare fuori per vedere riconosciute i propri meriti e le proprie competenze su questo che stava dicendo il professore il dottore Zera mi viene in mente una cosa fondamentale pensavo a Pasquale Saraceno e alla Cassa del Mezzogiorno che praticamente fu la più grossa infrastruttura che fu creata negli anni 50 per ridurre il divario nord-sud e sto pensando sicuramente lei me lo fa ricordare e lo saprà alla Troiand cioè praticamente la Germania di fatto la Germania della dell'unificazione di di Helmut Kohl la grande Germania ha mutuato la stessa struttura per quanto riguarda quando fu di andare a gestire la riunificazione economica dell'est che chiaramente era molto povero da questo punto di vista rispetto all'ovest per quelle ragioni di polarità a cui si faceva riferimento poc'anzi ha copiato né più né meno il modello di Pasquale Saraceno della Cassa del Mezzogiorno cioè la Troiand non è stata altro che un ente che ha realmente riuscito a portare lo sviluppo nell'est Europa nell'est della Germania come di fatto doveva essere nelle idee la Cassa del Mezzogiorno e nelle idee di Pasquale Saraceno perché il grande testitore di questa cosa fu appunto Pasquale Saraceno e sulla l'Europa giustamente io sposo l'idea del dottore Zero l'Europa ha commesso e sta commettendo errori non ultimo appunto abbiamo visto questa storia dei contratti sui vaccini ma è una cosa su cui non si può prescindere noi da soli non possiamo andare da nessuna parte dobbiamo essere un contesto sovranazionale si chiama Unione Europea giustamente lui ha fatto anche riferimento a questo disimpegno che già da qualche presidente in poi da Obama in poi c'è stato negli Stati Uniti che si stanno ritirando gradualmente dall'Europa e queste sono altre delle problematiche una comunità europea di difesa che è stato sempre il sogno dell'Europa non è mai stata conclusa io ricordo negli anni 60 la famosa quando ci fu già di fatto si parlava di comunità europea della difesa ricordo effettivamente la Francia che uscita non solo dalla Nato ma fece anche la famosa cosa della sedia vuota cioè fece fallire da questo punto di vista la comunità europea di difesa e anche un'altra cosa che è fondamentale è un progetto di politica europea comune perché di fatto ancora non esiste questa politica europea comune scendendo anche su quelli che sono i nostri interessi geopolitici fondamentalmente noi siamo un paese mediterraneo noi siamo protesi sul Mediterraneo come diceva qualcuno era il mare Nostrum ed è secondo me questo dobbiamo riprendere in questo senso è impossibile che in Libia dopo cento e rotti anni siano tornati i turchi a governare tra virgolette e a farne un entente un entente perché abbiamo avuto questa cosa ci siamo disimpegnati la politica non è stata non è stata capace di mantenere anche quel ruolo che fino agli anni 50 fino agli anni 60 fino agli anni 70 l'Italia aveva in quella parte di territorio perché non ci dobbiamo scordare anche l'accordo che fece Agnelli nel 76 con Gheddafi per noi è stata sempre strategica questo tipo di territorialità e adesso l'abbiamo persa è emblematico anche il caso che per andare a liberare i pescatori di Mazzara del Vallo ci deve essere stata questa triangolazione Putin Erdogan Italia non siamo più neanche capaci noi a intervenire e questo è quello che diceva appunto il professor Ramallo la sconfitta della politica è anche questo da questo punto di vista non riuscire a fare neanche più gli interessi di una nazione è una politica seria il professor Lucio Caracciolo è emblematico in uno degli ultimi suoi interventi ecco perché ho citato il discorso della Marina noi non abbiamo veramente quattro navi per andare lì a dire noi ci siamo probabilmente le avremmo anche e il problema è che non si tratta di scelte può dire quando noi accettiamo di boicottare lo Sputnik V cioè che è una decisione evidentemente geopolitica ma andiamo anche lì contro un interesse nazionale italiano di rapporti con la Russia e con quel mondo compresi quei paesi che ora sono ostili alla Russia cioè la Polonia vengono fatti come dire schierati il primarium a contenimento ma andiamo evidentemente contro i nostri interessi stesso discorso sul Mediterraneo evidentemente dovremmo mentre la Turchia elabora una strategia quella dell'onda blu cioè del fatto di tornare all'espansionismo ottomano chiamiamo le cose con loro nome ma che è anche una difesa di determinati interessi no perché a corollario di questo c'è il fatto che loro sostengono ma in realtà sono cento anni che gli altri lavorano contro di noi stessa cosa potrebbero dire i russi all'indomani perché dopo la fine dell'Unione Sovietica era stato promesso a Gorbachev la non espansione della Nato a destra quando si va a giocare nel giardino di casa di qualcuno poi si gioca con le etnie si gioca con tutte quelle cose con i Balcani con tutte quelle cose che hanno fatto scoppiare le guerre mondiali poi in passato quindi forse anche uno dei problemi di quest'Europa che e la Gran Bretagna è andata via dovremmo capire perché è andata via oltre per quello che si è ragionato all'immigrazione agli aspetti economici finanziari ma forse perché a volte determinati interessi divergono poi l'Italia ha gli stessi interessi della Germania non ce li ha mai avuti dell'Olanda o del Belgio che sono paesi diversissimi da noi certo abbiamo tantissime cose in comune da un punto di vista culturale ma alcune cose sono astrazioni culturali altre cose sono degli avvenimenti sostanziali invece che sono politici ed economici e stanno sul campo allora sì vecchi problemi e vecchie storie della geopolitica tornano fuori quale Europa vuoi un'Europa omnicomprensiva e di tantissimi paesi dagli interessi divergenti e poi salta ogni volta che qualcuno poi anche dei piccoli rivendica perché poi questa Europa sta saltando non per dei fenomeni di sovranismo oppure sta saltando perché a un certo punto qualcuno si rende conto dei vaccini per cui comincia a dire ah ma allora facciamo da soli se questi vaccini non arrivano e sono paesi assolutamente europeisti però tutto questo cagiona comunque un non funzionamento di un organismo allora o noi si rivedono tutte queste situazioni si rivedono questi modi di vedere le cose e andiamo verso una nuova politica ma la politica dovrebbe ragionare al mio modesto modo di vedere di quello di cui voi stasera avete parlato e invece ragiona di altro ragiona continuamente di sistemi elettorali e di riforme elettorali sempre una peggiore dell'altra di massimi sistemi di gossip di piccole polemiche ma non c'è nessuno ormai che vada a toccare determinati argomenti che sono fondamentali allora io credo e credo sarà l'oggetto della nostra prossima lezione del nostro prossimo incontro ragioneremo la prossima volta di idee e di Europa cosa ci vuole per formare delle classi dirigenti io credo che basterebbe andare indietro alla nostra civiltà occidentale ai sofisti a Platone la nostra filosofia dove si ponevano il problema semplicemente di creare delle classi dirigenti e di formare le persone l'elemento culturale formativo che sta andando a pezzi in questa Europa sotto la vernice fluorescente dell'Erasmus di determinate chiacchiere continue che vengono fatte sotto cui non c'è niente allora cominciamo a dare a tornare a un'idea di formazione cominciamo a ragionare partendo da quello in cui si ragionava agli albori della nascita di questa Europa moderna Erasmo da Rotterdam tutti gli altri andiamo a ragionare su quello che è il nuovo umanesimo su quelle che sono seriamente le questioni ambientali ma soprattutto sulle idee come fare andare o dove sono evitando di parlare per slogan o per mode e soprattutto evitando di parlare come altri vogliono che parliamo perché ogni forma di alleanza culturale mondiale o di comunanza deve essere paritaria un'Europa che addirittura richiama l'America perché ha bisogno di un padrone ha bisogno di un qualcuno che ti dica come fare si spaventa di Trump perché Trump ha mollato e spera che Biden ma nessuno potrà tornare a fare il genitore il genitore 1 e il genitore 2 di questa Europa a un certo punto dovremo fare evidentemente da soli come Europa se poi vogliamo che ognuno continui a fare la propria politica estera come poi accade a gap i propri interessi nazionali però si sappia che poi come nella vicenda libica non ci sono alleati i primi nemici dell'Italia in quella vicenda sono stati i nostri alleati perché legittimamente avevano già tra loro i francesi avevano perso la Tunisia altri avevano male quindi poi è toccato a noi che siamo stati quelli siamo quelli meno attrezzati forse per le vicende ancora dell'armistizio di Cassibile tra l'altro forse perché siamo ancora un paese a sovranità limitata forse perché abbiamo un'opinione pubblica come dire formatasi sul cattolicesimo formatasi su una certa versione del marxismo per cui esatto un intervento militare per esempio è giustificato solo in ambito di questioni di pace anche se poi siamo andati a bombardare senza senso l'ex iudostale c'è questa cosa per gli interessi sempre degli altri deve essere inquadrato c'è questa cosa famosa dell'articolo 11 che effettivamente ne sbandirà però alla fine poi ci ha limitato sempre da questo punto di vista per cui da questo punto di vista la prossima volta ragioneremo sull'Europa e sulle idee per il ventunesimo secolo grazie grazie grazie